Ma io devo mettere in casa mia figlia a casa, ragazzi, in casa, si parla dei pali, non capite? Lei c'è in casa mia, ma io stasera non ce l'ho, lei ce l'ha e io devo seguirli, mi chiedo nei cieli qui, quando morì, ma non mi chiede io questa volta. Quando in casa mia figlia, 30 anni di lavoro, mi chiedo pure a rivederci, mi chiamo anche vagabondo.